zona rossa natale le perplessità del governatore acquaroli tamponi di massa domani si comincia a pesaro e urbino prodotti cinesi fuori legge sequestrati a pesaro 10.000 articoli natalizi ospedali d'emergenza guido bertolaso a colloquio con gli studenti del bramante jenga giovedì 17 dicembre buona serata e ben ritrovati al nostro telegiornale questa edizione è dedicata in apertura alle nuove restrizioni che si prospettano per tutta l'italia nel periodo natalizio si attende infatti l'ufficialità su un'entrata in zona rossa per i giorni festivi così come si aspetta di comprendere con precisione quali saranno le limitazioni alle attività ma anche agli spostamenti decisioni governative che stanno passando per una trafila di conferenze stato regioni tuttora in corso come spiega in questa prossima intervista il presidente della regione marche francesco acquaroli io non so se si andrà verso la zona rossa questo vediamo perché sa è difficile comprenderlo oltre tutto una settimana fa volevamo aprire scuole l'altro giorno si poteva girare da comune a comune ieri era zona rossa quindi dipende da quello che decideranno chi ha queste responsabilità certamente per me resta difficile cambiare lo schema di pcm anche perché io ho difeso non c'è stato dato la possibilità di discuterlo quindi l'ho difeso perché era lo strumento che il governo dava alle regioni e agli enti subordinati per poter governare la pandemia l'ho difeso a novembre l'ho accettato l'ho difeso a novembre l'ho accettato e l'ho difeso a dicembre oggi mi resterebbe difficile comprendere senza una spiegazione logica razionale senza una spiegazione logica razionale per quale motivo che insomma dobbiamo sconvolgere tutto quello che il cts ha detto fino ad oggi sarebbe incomprensibile ma non a me perché alla fine potrei avere dei limiti credo che sarebbe però incomprensibile ai cittadini che non riescono a stare dietro a tutti i cambiamenti che le istituzioni impongono i cambiamenti di interpretazioni i cambiamenti normativi noi dobbiamo rendere una comunicazione semplice queste cose io le ho dette alla stampa martedì prima durante il consiglio le ho dette ieri esattamente queste in conferenza a Stato di Regione e rivadisco oggi perché guardate entrando qua avevo un messaggio di un cittadino partita IVA che lavora nell'ambito della ristruzione dei bar disperato disperato perché non sa se deve fare il fine settimana se non sa se dovrà fare il Natale o non lo dovrà fare e non riesce a capire se deve fare le forniture non le deve fare l'altra volta dice l'ho fatta e poi è andato tutto perso ecco io credo che noi dovremmo essere all'altezza delle istituzioni che rappresentiamo e dovremmo parlare meno ed essere più chiari e da domani comincia la campagna regionale di tamponi rapidi di massa su base volontaria e gratuita uno screening di massa appunto fortemente voluto dalla Regione Marche con l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e il governatore Acquaroli che questa mattina hanno sottolineato l'importanza di questa operazione di prevenzione sanitaria senza precedenti le immagini che vi mostriamo si riferiscono all'allestimento di oggi di questa mattina della sala tamponi che è stata predisposta nei locali del liceo scientifico Marconi di Pesaro l'istituto del campus è infatti assieme all'alberghiero Santa Marta e la Vitri Frigo Arena uno dei tre luoghi in cui i cittadini di Pesaro potranno recarsi dalle 8 alle 13 dalle 15 alle 19 tutti i cittadini pesaresi in base al quartiere di residenza lo screening nella città di Pesaro si concluderà il 23 dicembre e passiamo al consueto spazio dedicato ai dati del coronavirus nella nostra regione Marche oggi si è registrato un calo del rapporto fra positivi e tamponi che scende al 14 per cento rispetto al 25 per cento di ieri sono infatti 467 i nuovi casi positivi al covid 19 nelle Marche su 3279 nuove diagnosi per un totale di 4824 tamponi processati i casi positivi rilevati nella provincia di Pesaro Urbino sono 146 purtroppo nella giornata di ieri si sono registrati altri nove decessi di marchigiani contagiati da coronavirus più di 10.000 prodotti irregolari e ritenuti pericolosi per la salute sono stati sequestrati proprio da un negozio pesarese gestito da un imprenditore cinese vediamo il servizio decorazioni e addobbi natalizi gadget e giocattoli per bambini tutti fuori legge la guardia di finanza di Pesaro ha sequestrato 10.500 prodotti di fabbricazione cinese risultati non conformi alle norme del codice dei consumi prodotti trovati in vendita in un negozio pesarese gestito da un imprenditore dello stesso paese asiatico nell'esercizio commerciale infatti migliaia di prodotti risultavano mancanti dell'obbligatoria etichettatura della denominazione legale merceologica del prodotto del produttore e dell'importatore nonché del paese d'origine se estraneo alla comunità europea senza questa indicazione infatti impossibile escludere la presenza di sostanze che possono recare danno a persone o all'ambiente la merce sequestrata dalle fiamme gialle pesarese è del valore di 3.300 euro mentre l'imprenditore cinese è stato segnalato alla camera di commercio pesarese per definire sanzioni pecuniarie che possono arrivare addirittura fino a 25.800 euro ed ora spazio anche alla cronaca perché 24 persone sono finite in carcere all'alba di questa mattina in una maxi operazione di contrasto allo spaccio di eroina coordinata dai carabinieri di macerata ma che ha visto coinvolti anche i reparti di pesaro fermo teramo roma latina pescara e chieti i 24 arrestati sono tutti di origine afghana e pakistana e sono ritenuti responsabili di un traffico di eroina che partiva dai paesi asiatici d'origine e arrivava in italia facendo base a portorecanati rifornendo di fatto tutto il centro italia compresa la provincia di pesaro urbino un'indagine durata un anno che oltre ai 24 arrestati di questa mattina ha messo in manette anche altre 16 persone nei mesi scorsi questa mattina l'ex direttore nazionale della protezione civile guido bertolaso ha fatto tappa nell'istituto pesarese bramante genga per portare la sua esperienza in tema di emergenze sanitarie e realizzazione di covid hospital a servizio di un progetto della scuola superiore pesarese allora vediamo il servizio di daniele sacchi nel 2020 falcidiato dalla pandemia realizzare un ospedale d'emergenza diventa materia scolastica e quanto accade all'istituto bramante genga che questa mattina ha ospitato un incontro formativo dedicato all'ambizioso e coraggioso progetto hope con gli studenti ritrovati si in aula magna divisi fra rispetto del distanziamento sociale o della didattica a distanza al cospetto di un relatore d'eccezione come l'ex direttore della protezione civile nazionale guido bertolaso è una giornata importante per noi oggi perché diciamo si tratta di ospitare delle persone diciamo che hanno una competenza nel settore per poter dare inizio a questo progetto op che ha come obiettivo quello di diciamo fare uno studio di fattibilità sulla possibilità di appunto un presidio sanitario emergenziale nella zona dell'ex campana dell'ex fiera di campanara qui a pesaro allora noi oggi abbiamo qui ospite appunto il dottor bertolaso che credo tutti conosciamo l'ingegner manenti che l'istituto genga ha avuto la possibilità di conoscere già in occasione del terremoto dell'emilia romagna e poi ci sono dei dei tecnici esperti che illustreranno appunto ai ragazzi ecco quello che è stato il progetto del degli ospedali covid sia di milano e sia di civita nuova marche sono delle persone che operano e hanno operato e operano sia nel settore della protezione civile sia nel settore della diciamo delle situazioni emergenziali delle situazioni sanitarie e quindi è chiaro che è un incontro di estrema importanza per poter avere sia delle informazioni utili non nell'ambito sia per porre dirò ai ragazzi ponete tutte le domande che vi possono diciamo così essere utili per potere poi voi stessi diciamo partire su questo progetto sono innanzitutto molto contento del fatto di poter potermi incontrare con degli studenti perché in una fase dove le scuole sono state penalizzate a causa di un'epidemia che di fatto ha compromesso tutto lo sviluppo del nostro paese ma in modo particolare tutti i giovani e gli studenti potermi incontrare con degli studenti oggi credo che sia un bel segnale quindi significa che non dappertutto in qualche modo è impossibile fare didattica qui a pesero qui nelle Marche la stanno facendo comunque questo credo che sia un passo avanti molto significativo per quello che riguarda l'iniziativa specifica io ho dato il mio piccolo contributo per realizzare il covid hospital di Civitanova Marche ci ricordiamo tutti quanto è stato osteggiato quando quanto è stato criticato no è stato anche un po' la piedra dello scandalo durante la campagna elettorale in questa regione la scorsa estate mentre invece purtroppo oggi si è dimostrato estremamente utile vorrei dire essenziale perché sta svolgendo un compito molto importante quello di ricoverare i casi più gravi di covid con tutti i letti di terapia intensiva e di animazione che abbiamo realizzato e non ci dimentichiamo che lo abbiamo realizzato in tre settimane senza spendere i soldi dello Stato ma semplicemente basandoci su quelle che sono state le donazioni dei cittadini per un costo di 8 milioni di euro che rapportato ai posti letto che abbiamo fatto è inferiore ai 100 mila euro per letto sono fatti sono numeri sono dati concreti che in qualche modo rispondono a quelle che sono state le critiche pretestuose oggi ci stanno cobiando in tanti in Puglia da mesi stanno lavorando per cercare di fare qualche cosa di simile a Bari presso la fiera del Levante forse ci riusciranno a fine gennaio diciamo che noi in 15 giorni abbiamo dimostrato che le cose si possono fare bene presto con quelle che sono poi i risultati per la gente questi giovani hanno intenzione di seguire questo tipo di esperienze quindi sono molto contento di essere qui con loro a condividere i problemi anche le amarezze ma soprattutto i successi che sono finalizzati a far migliorare la nostra società. L'azienda Ausilia di Acqualagna ha donato oggi 3.330 mascherine chirurgiche e 300 test sierologici al gruppo comunale di Pesaro della protezione civile. Presente alla consegna anche l'assessore all'operatività Enzo Belloni che ha ringraziato per un gesto che sostiene i volontari nelle numerose operazioni che li vedrà coinvolte in questi giorni festivi. È stata presentata questa mattina nel comune di Pesaro la prima edizione di foto archivi Pesaro memoria aperta un progetto di ricerca storica attraverso reperti fotografici che comincia con una dedica ad un luogo simbolo del passato pesarese la storica fonderia Montecatini che occupava l'area dove oggi sorge il Miralfiore. Il progetto promosso dall'associazione Macula vuole infatti valorizzare gli archivi fotografici della città affinché diventino un'occasione di riscoperta del passato. In piazza a Mondolfo è stato realizzato un albero di Natale fabbricato con 73 mila metri di filo di lana. È formato da 2800 quadratini realizzati all'uncinetto riciclando diversi tipi di lana che altrimenti sarebbero andati distrutti. La creazione artistica di circa 7 metri è stata inserita fra le iniziative del Natale che non ti aspetti organizzato dalle proloco provinciali. A realizzarla un gruppo di donne di Mondolfo che hanno lavorato all'albero di lana dall'inizio di marzo fino a metà novembre. Il teatro Rossini di Pesaro si prepara ad ospitare un concerto che verrà trasmesso da Rai 2 la mattina di Santo Stefano. Una performance che vedrà in scena l'orchestra sinfonica Rossini accompagnata dalla presenza di tanti ospiti della canzone italiana come ad esempio Ron e Raffael Gualazzi e Dodi Battaglia. Un altro grande momento per Pesaro città della musica come ci spiega in questa prossima intervista l'assessore alla cultura Daniele Vimini. È un progetto che ci ha entusiasmato da subito l'idea di poter tenere il concerto di Santo Stefano di Rai 2 da Pesaro dal teatro Rossini con la nostra orchestra sinfonica Rossini. È sicuramente una bella opportunità, una bella opportunità per legare in questo giorno così importante l'aspetto spirituale con l'aspetto artistico, l'aspetto musicale, il desiderio di rinascita anche della musica e della cultura. È un ripeto una rete nazionale che affida alla nostra città un appuntamento che potrebbe diventare anche diciamo qualcosa di più di un solo evento ma potrebbe diventare anche una bella abitudine nel periodo delle feste legata alla città di Pesaro per quello abbiamo deciso da subito di sposare quest'idea che vedrà a susseguirsi sul palco in un vero e proprio spettacolo televisivo quindi non sarà solamente un concerto ma sarà anche l'opportunità di parole, di contestualizzare in una giornata così importante dal punto di vista spirituale così come anche di fare vedere tante immagini importanti della città di Pesaro in questo momento che dalla cultura si vuole ripartire. Verranno anche consegnati dei premi a Ron, a Do di Battaglia e a Raffa il Guerazzi quindi per capire insomma un po' anche il livello del parterre artistico assieme anche a tanti altri giovani cantanti e giovani artisti che appunto caratterizzano in musica, in bellezza, in arte questa giornata così importante della politica spirituale alle 10 di mattina del 26 di dicembre quando ovviamente tutti gli italiani saranno a casa per vivere in serenità le feste e aggiungere questo elemento di bellezza e di riconoscibilità di Pesaro, città della musica UNESCO. Ed ora è arrivato il momento di dedicare spazio allo sport, dopo due sconfitte infatti la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro prova questo sabato a riscattarsi in trasferta contro l'Eppi Casa Brindisi. Ascoltiamo allora il coach Jasmine Repe già poche ore prima della partenza per la Puglia. Abbiamo fatto un lavoro veramente molto molto buono questi giorni, prima di tutto per mille motivi. Sappiamo che in questo momento squadra non è in grande balance dal punto di vista del condizionamento perché ci sono giocatori che hanno avuto Covid, sono stati due settimane, tre settimane fuori di squadra e ci sono giocatori che hanno avuto problemi vari, uguale dove motivo non è stato solo Covid, è sicuro aumentare qualità di nostro condizionamento, avere un shape molto più buono è obiettivo numero uno in questo momento per avere un bilancio, un equilibrio diciamo così molto molto più alto rispetto alle ultime due partite dove abbiamo faticato tantissimo prima di tutto da questo punto di vista. Brindisi, che cosa dire a Brindisi? È veramente una bella sfida, sfida per orgoglio, per Prae diciamo così. Perché? Perché incontriamo la squadra che è prima in classifica ma non solo perché sono primi in classifica, perché hanno vinto a Milano, a Bologna, a Sassari, sai? E l'unico posto dove hanno perso è a Venezia, sai? Vorrei dire che già hanno giocato contro le squadre più forti in campionato, tutti fuori e sono primi in classifica e basta dire questo. Cioè Pugiu, per noi è una bellissima sfida, incontrare la squadra che conosciamo perché abbiamo giocato due partite a Olbia, andiamo a preparare il meglio possibile, recuperare più o meglio possibile, ragazzi che non sono in ottimo shape e sfidare se stessi. E continuiamo a parlare di sport, ma in questo caso ci occupiamo dell'Ital Service Calcio a 5 Pesaro, per la quale è stata decisa la data del prossimo match di Champions League. I pesaresi disputeranno i sedicesimi di finale a Parigi contro i francesi della Sniere Villeneuve il prossimo 16 gennaio alle 19. Intanto la squadra di Colini si concentra sul campionato, infatti sabato alle ore 18. L'Ital Service sarà in trasferta sul campo della Cybertel a Niene, chiaramente il tutto in diretta su Rossini TV. Ed ora lo spazio dedicato ai buoni sapori della nostra cucina, ai buoni sapori del nostro chef. Buonasera al pubblico di Rossini TV. Quest'oggi abbiamo preparato la seppia in porchetta sporca col proprio fegato, cotta alla braccia insieme alla bietola, salsa al nero di seppia, polvere di porchetta e salsa al finocchietto. Questo piatto ricorda appunto il mare Adriatico in contrasto con le colline Adriatiche, quindi col sapore di finocchietto, il ricordo della porchetta che si utilizza nelle nostre tradizioni contadine. Quindi abbiamo creato un mix di territorialità che ci dà un sapore unico, quindi le origini contadine con il sapore del mare. Questo mix secondo me dà un connubio perfetto. Vi invito a provare questo piatto e venire ad assaggiare presso il nostro ristorante. Seppia sporca in porchetta con bietole alla braccia e polvere di porchetta. Questa sera giovedì, come tutti giovedì, il nostro canale dedicato al basket pesarese con una nuova puntata di Insieme a Canestro. Il focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro questa sera. Non perdetevi la puntata alle 21.15, in replica alle 22.30 perché tra gli ospiti ci sarà la guardia WL Massenant, il titolare della BRX Roberto Rovere e la giornalista e opinionista Camilla Cataldo. E allora ho detto veramente tutto, però questa sera vi voglio chiudere questa edizione del nostro telegiornale facendovi vedere il promo di un programma che andrà in onda a partire da lunedì. Un programma voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio si chiama Palcoscenico Marche. È veramente un racconto di 14 episodi meravigliosi che esaltano le bellezze del nostro territorio. Io vi auguro buona serata e vi do appuntamento domani con la nostra rassegna stampa delle 7.20. Grazie a tutti. Palcoscenico Marche. Un viaggio nelle meraviglie della provincia di Pesaro e Urbino.